Un super Avellino fa sua la sfida contro il Crotone, seconda forza in classifica. I Lupi, nel posticipo del lunedì, valido per la 26esima giornata di campionato di Serie C, hanno dettato il ritmo sul campo di casa dello stadio Partenio Lombardi. Chiaro il risultato finale, 3-1 per i Biancoverdi. Nel primo tempo la squadra di Rastelli è subito pericolosa, poi arrivano anche i gol. Al 17esimo segna Mazzocco, al 31esimo la firma è di D'Angelo, entrambi arrivati da poche settimane nella rosa degli Irpini. Nella ripresa, l'Avellino cala il Tris con Trotta al minuto 25. Quattro minuti più tardi i calabresi accorciano le distanze, Trotta a terra, Carbo in aria ed è calcio di rigore. A battere e realizzare il penalty è Gomez. Maisto va vicino al quarto gol per l'Avellino, ma il diagonale non va a segno. Finisce così con un convincente 3-1. Per gli Irpini è la seconda vittoria di fila, che li porta a 36 punti in classifica, insieme a Juve Stabia e Monopoli, mentre gli squali del Crotone restano a quota 59, vedendo salire a 11 i punti di distacco dal Catanzaro capolista. Prossimo appuntamento per i Biancoverdi, domenica 12 febbraio sul campo del Cerignola.